Pastori e Bovari, Pastore tedesco, Border Colli, Pastore bianco svizzero, Pastore maremmano abruzzese, Colli, Bovaro del Pastore australiano, Beardhead Colli, Australian Kettle Dog, Cane Lupo cecoslovacco, West Gorgi Pembroke, Cane Lupo Sarlos, Shetland Skipper Key. Grazie per la visione! Allora, siamo nel primo gruppo, tutti i cani da Pastori e dei Bovari, esclusi i Bovari svizzeri, e qui verrà scelto il primo finalista in rappresentanza appunto del gruppo dei Pastori. Allora, Wells Gorgi, prima selezione da parte del giudice, il Beardhead, Pastore australiano, il Colli e il Border. Grazie agli altri, usciamo dalla parte opposta per cortesia. Allora, vediamo il Border Colli. Il Pastore scozzese a pelo lungo, il Colli. E dopo il Colli è la volta del Pastore australiano. gruppo due nel pre-ring, per cortesia. Allora, Pastore australiano. Ecco qua il Bearded. e dopo il Bearded è il turno del West Gorgi Pembroke. Well, Scorgi Pembroke. Tu sei stato il primo. Abbiamo visto tutti e cinque i finalisti muoversi. qui? E qui? E qui? Il Bearded. Allora, al terzo posto Border Collie, al secondo posto West Gorgie Pembroke, vince Beardhead Collie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501